Dopo il momento corale della conferenza d'Ateneo, i tre candidati alla carica rettorile dell'Università del Salento mettono i loro programmi alla prova della valutazione delle singole articolazioni dell'istituzione accademica. È stata l'area umanistica, le facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali, il terreno di verifica della loro visione futura della gestione dell'Ateneo. I punti programmatici sono noti e consultabili sul web, per questo si è passati subito a sentire le voci di docenti, ricercatori, personale e amministrativo della facoltà tradizionale, nata con università e ora in particolare difficoltà, con problemi condivisi con le altre facoltà e criticità sue proprie. A partire dal nodo dell'edilizia, la sede del Parlangeli, inadeguata e non a norma, doveva ospitare la fondazione, fresca però di bocciatura. Tornano quindi a disposizione i 120 milioni a questa destinati e a Michele Carducci, Gianni Laudizi, che qui giocava in casa, e Vincenzo Zara sono arrivate sollecitazioni sulle prospettive in questo settore. Lettere sarà condannata a rimanere al Parlangeli, che peraltro, a differenza delle altre due sedie, è in affitto o quei fondi si potranno utilizzare per compiere passi decisivi verso la creazione della cittadella universitaria e umanistica, possibilisti i candidati Laudizi e Carducci, pur con sfumature diverse. Nel dibattito è riemerso poi un altro tema caldo, quello dell'istituzione e della facoltà di medicina. Apertura su questo dal candidato Zara. Tante le sollecitazioni relative alla necessità di riappropriarsi con politiche concrete della primaria funzione di centro di produzione culturale dell'istituzione e alla sburocratizzazione del ruolo dei docenti, nonché a liberare i ricercatori da un sovraccarico di didattica che li penalizza nel momento della valutazione a cui per legge si è sottoposti e che è passaggio obbligato per l'accreditamento e quindi per la vita stessa dell'Ateneo. Forte è anche la richiesta di chiarezza e regolamentazione nei rapporti con le rappresentanze sindacali. La sensazione finale è che la partita tra i tre, il giurista, il biochimico e il latinista, sia ancora aperta.